Flores Multimedia in direzione Firenze sulla strada regionale 2 via Cassia tratto chiuso per lavori al ponte del Paio al chilometro 152 e 500 tra Radicofani e Abbadia San Salvatore a Firenze per i lavori alla linea 3 della tramvia in via Pisacane tratto chiuso tra via Mazzoni e via Corridoni fino al 30 settembre muoversi in Toscana Inf servizio in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana e Comune di Firenze buon viaggio grazie a tutti